cari amici di mille un'avventura continua questa nostra prima settimana nel 2023 e andiamo a scoprire una tecnica il ray tracing che ora viene realizzata normalmente sulle schede grafiche che più moderne ma che un tempo e qui sto parlando degli anni 90 con fatica i computer riuscivano a realizzare su cpu che erano diciamo piuttosto lente di cosa sto parlando il ray tracing non è la stessa tecnica ecco che possiamo vedere in questo caso che cosa avviene normalmente in un videogioco tutti i modelli che noi vediamo sono realizzati mediante dei triangoli e questi triangoli vengono disegnati sullo schermo pixel dopo pixel andando a scoprire quali sono i vertici che devono essere renderizzati il processo si chiama rasterization e come vedete un triangolo immaginate un modello molto complicato un triangolo ha tre vertici il computer fa tutta una serie di calcoli o meglio più che la cpu del computer ormai la scheda grafica del computer va a calcolare la posizione dei tre vertici sullo schermo e poi va a riempire piano piano tutti i pixel che sono compresi all'interno di quei tre vertici qui vedete una rappresentazione della situazione ora è un metodo ovviamente veloce per realizzare modelli tridimensionali su uno schermo però diciamo che non è realistico perché in realtà tutti questi pixel hanno un loro colore ma questo colore è dovuto alla presenza delle luci che ci sono intorno delle varie riflessioni che ci possono essere e quindi è un sistema approssimato che funziona benissimo fino a qualche anno fa i videogiochi non avevano bisogno di ray tracing per apparire realistici ma diciamo che è solo approssimato allora in questo video andremo a vedere cos'è il ray tracing che programmi c'erano negli anni 90 per realizzare il ray tracing e cosa si riesce a fare invece adesso vedremo due programmi uno degli anni 90 e uno attuale entrambi ormai gratuiti però appunto vedremo le differenze e infatti il ray tracing che cosa fa invece di disegnare appiccicare sullo schermo i triangoli che compongono i modelli immagina che ci sia una camera e questa camera scansiona tutti i pixel dello schermo sparando dei raggi immaginate che nella nostra simulazione vengono proprio sparati dei raggi che vanno a individuare delle forme che ci sono nella scena quindi noi possiamo sparare un raggio attraverso questo pixel se questo pixel va a colpire una sfera che è presente lì nella scena che vogliamo renderizzare ecco si va a individuare il punto della sfera che corrisponde a quel pixel e poi si va a vedere se su quel pixel stanno arrivando dei raggi di luce dalle sorgenti luminose che ci sono intorno e quindi è un po' il processo contrario invece di andare a disegnare tutti i triangoli che compongono la scena andiamo a vedere attraverso il nostro schermo se i raggi che partono dalla camera incontrano qualcosa e una volta che viene incontrato qualcosa si va a vedere se quel punto viene illuminato da varie sorgenti ma non solo se l'oggetto fosse come questo un oggetto traslucido cioè un oggetto in cui avviene la rifrazione parte il nostro raggio dalla camera e vi faccio notare che è il contrario di quello che avviene normalmente in realtà che cosa succede ci sono le sorgenti di luce che illuminano gli oggetti gli oggetti possono diffondere la luce e poi questa luce arriva sulla camera o sul sulla retina del nostro occhio quindi in realtà ci sono tanti raggi di luce che illuminano la scena e poi arrivano sulla camera invece in questo il nel ray tracing si fa il contrario perché ovviamente sarebbe molto dispersivo poco efficace andare a simulare tutti i possibili raggi che ci sono nella scena anche i raggi che arrivano dal sole per poi arrivare a colpire l'occhio ecco è più efficiente fare il contrario un raggio che arriva attraverso questo pixel ci chiediamo da dove è arrivato e allora ci accorgiamo che colpisce l'oggetto traslucido e una parte di questo raggio viene riflessa ma dovete immaginare che sia il contrario cioè adesso lo faccio in modo diretto parte un raggio dalla camera colpisce l'oggetto traslucido che cosa avviene se un oggetto di questo genere una parte viene riflessa una parte viene rifratta e questa parte rifratta può subire una riflessione all'interno dell'oggetto oppure una rifrazione uscendo fuori dall'oggetto e dopo di che può colpire un oggetto solido che può poi diffondere la luce in tante direzioni diverse e arrivare una sorgente di luce tutto questo in cosa si traduce in realtà c'è un raggio di luce che esce dalla lampadina colpisce l'oggetto solido dall'oggetto solido viene diffuso in particolare il raggio arriva anche qui e si riflette per arrivare alla nostra camera oppure la sorgente di luce può illuminare quest'altro oggetto questo oggetto diffonde la luce che arriva sul viene rifratto dall'oggetto traslucido e di nuovo può arrivare alla nostra camera ciò che vedrà la camera attraverso questo pixel sarà una serie di effetti che si sovrappongono di raggi che sono stati riflessi e che sono arrivati dalle varie sorgenti di luce oppure che sono stati rifratti attraverso l'oggetto e la somma di tutti questi colori ci darà il colore del pixel che vorremmo rappresentare ecco immaginate tanti raggi che attraversano tutto questo frame che rappresenta il nostro schermo perciò come avete capito è una procedura assolutamente dispendiosa dal punto di vista dei calcoli perché anche se noi usiamo il trucchetto di far partire un raggio dalla camera poi questo raggio subisce tante riflessioni rifrazioni e così via ecco questa tecnica adesso si può realizzare anche sulle schede grafiche grazie a dell'hardware molto potente che ora è possibile realizzare tutti questi calcoli non vengono demandati alla cpu che quindi doveva fare tantissimi calcoli ma viene mandato demandato alla scheda grafica che ha molte più unità di elaborazione e quindi può fare molti calcoli di questo tipo molto velocemente e quindi surclassa ciò che potrebbe fare una normale cpu ora all'epoca e qui voglio parlare degli anni 90 ecco avevo trovato per realizzare questa cosa sul mio personal computer non sul commodore 64 perché non è possibile diciamo che sulla miga si riuscivano a fare cose di questo genere sul commodore 64 esisteranno dei dimostrativi che fanno del rendering di questo tipo ma ovviamente su scene molto semplificate e qui invece vedete questo programma che si chiamava power ray persistence of vision ray tracer che realizzava immagini di questo genere ecco immaginate tra poco lo vedremo proprio all'opera immaginate più sorgenti di luce che illuminano questa teiera e vedete sulla superficie del tavolo che si formano due ombre perché ovviamente ci sono due sorgenti di luce che illuminano ma si notano anche degli effetti di luce sulla teiera che diffonde la luce in modo particolare non la riflette perfettamente ma la diffonde con una superficie una superficie che ha anche delle scabrosità e quindi ci sono questi effetti di luce molto particolari che il ray tracing riesce a riprodurre in modo esatto e le tecniche di rendering 3d riescono a riprodurre in modo approssimato senza però sparare tutti questi raggi che avete visto ora per questo power ray la prima versione del 91 io lo devo aver recuperato nel 93 94 e qui ho ppc software eccolo qua vedete questo questa scatoletta qui della aiuto che non riesco a ecco jackson libri vedete al suo interno lo apriamo anche così facciamo un po di revival di queste cose ovviamente non si riesce più ad aprire si sta spaccando tutto ecco qui ecco all'interno all'interno c'era il dischetto da tre pollici e mezzo eccolo qui ray tracing jackson libri vedete la c'era la scorreva in questo modo e all'interno c'era anche il suo libretto di istruzioni bianco e nero comunque un un libretto interessante questo all'epoca costava non so quanto costasse ma se l'ho comprato non costava tanto a 12 mila lire e questo dovrebbe essere 93 massimo 94 e praticamente sul sul dischetto mettevamo questa questo programma e eccola qui non so se ci riesco e questa era la cpu che eseguiva il rendering vediamo se riesco va un po poco a fuoco advanced micro devices am 486 dx 40 questa era la cpu che avevo sul mio primo pc quindi ho aspettato ho usato altri computer ovviamente ma il mio personale era questo qua adesso vediamo se riesco a no così no vediamo se riesco ecco proprio esagerato tantissimo scusate adesso succedono cose strane ma non preoccupatevi sto cercando di rimettere a posto tutto eccola qui questa era una cpu della amd quindi io sempre quasi sempre usato cpu non intel chissà perché forse perché essendo ligure le amd a parità di potenza costavano meno quindi braccino corto e l'intel l'ho sempre snobbato invece sulle schede grafiche amd preferivo ho preferito sempre nvidia quindi dei gusti particolari per le cpu una una casa che produceva soprattutto si cpu ma anche schede grafiche e quindi i gusti sono gusti allora che cpu era questa ovviamente non era una delle prime dei primi 486 che giravano soprattutto non era intel però la andiamo a vedere eccola qui tanto per fare un po di revival anche da questo punto di vista e andiamo a prendere questa eccola qui am 486 mentre adesso ho un ryzen sempre amd però un 3700 più e ecco allora che cpu era questa che faceva il ray tracing sul mio personal computer e poi andiamo a vedere che ray tracing faceva era una cpu 486 ovviamente a 40 megahertz adesso costa 40 dollari quindi qui ho in mano 40 dollari quindi costa tanto su ebay e che caratteristiche aveva aveva una frequenza adesso non lo vedete perché è molto piccolo avevo una frequenza di 40 eccolo qui adesso lo vedete questa è una versione della prodotta in malesia sulla sulla mia non c'è scritto malesia non c'è scritto nulla forse è scritto qua dietro malesia anche questo solo che è scritto dietro quindi vedete che aveva una frequenza di 40 megahertz e poi altre caratteristiche usava un processo di da 700 miliardesimi di metro quindi i vari transistor erano più o meno a questa distanza che è la distanza della luce blu delle creste nella luce blu 700 miliardesimi di metro e 32 bit massima memoria indirizzabile 4 gigabyte e quindi 40 megahertz invece adesso ho un ryzen 7 di qualche anno fa 3700 e i transistor si trovano vediamo se lo trovo qui scritto da qualche parte 7 miliardesimi di metro praticamente dal 93 a oggi o meglio a qualche anno fa perché magari adesso tentano di scendere ancora di più da 700 miliardesimi di metro distanza tra i transistor o qualcosa del genere si è scesi a 700 volte più piccolo 100 volte più vicini questi questi transistor incredibile poi da 40 megahertz siamo arrivati a 3,6 gigahertz quindi diciamo anche qui un fattore 100 perché 40 megahertz arrivare a 4 gigahertz è un fattore 100 più o meno adesso qui è 3,6 gigahertz poi c'erano varie cache ci sono varie cache anche qui però adesso qui non le vedo specificate vediamo se più sotto c'è qualche la cache è la memoria più veloce che si trova sulla sulla cpu non lo vedo ma non è così fondamentale magari non c'era neanche ma mi pare che della cache ci fosse e l'altra cosa interessante come ovviamente saprete è che ovviamente il 486 aveva la possibilità col sistema operativo di avere più thread vuol dire che posso eseguire un pezzo di programma interrompo quel pezzo di programma ne vado a eseguire un altro e così via e per il ray tracing non è che fosse utile più di tanto perché ogni pixel doveva sfruttare tanto tanto calcolo se interrompevo un pixel per accenderne un altro non è che cioè il tempo macchina era quello lì invece adesso su queste cpu e anche sulle gpu come abbiamo già discusso in altri video ci sono 8 core 8 core vuol dire 8 processori come questo ma che in realtà possono eseguire in totale 16 thread cioè ogni core può eseguire due thread due esecuzioni parallele e quindi è come avere 16 di questi oggetti qua ma che non viaggiano a 40 megahertz ma a 4 gigahertz infatti qua si può boostare a 4 gigahertz insomma una potenza di calcolo pazzesca e siamo qui nel 20 21 20 20 probabilmente 2020 quando l'ho acquistato se non sbaglio quindi tre anni fa e invece qui siamo nel 93 un salto tecnologico pazzesco bene dette queste cose così che non so quanto vi possono interessare andiamo a vedere questo power ray com'era qui sopra su questa scatoletta qui c'era il manuale qui trovate un manuale della versione 3.01 in italiano e trovate anche tanti esempi di cosa può produrre ecco vedete qui un'autostrada ecco questo è renderizzato vedete anche gli effetti di blur e gli effetti di profondità di campo cose che sulle schede grafiche ovviamente si riescono a fare anche in tempo reale senza usare il ray tracing ma qui è proprio tutto calcolato pixel per pixel tenendo conto anche delle riflessioni degli oggetti che ci sono intorno cioè se noi guardiamo il vetro di quest'automobile si vede proiettato il cielo ma in certe posizioni si potrebbe vedere proiettato questo albero qui quindi non è qualcosa di approssimato è qualcosa di esatto esatto fino a un certo punto perché se tenessimo conto di tutte le possibili riflessioni ci vorrebbe tantissimo quindi si arriva a una profondità con le varie riflessioni e diffusioni limitata però sicuramente qualcosa di più esatto rispetto a tecniche che sono comunque realistiche ma non così realistiche ovviamente si possono realizzare scene con oggetti non realistici come quelli dell'autostrada vedete qui il modello di una nave, un galeone e c'è qui un dinosauro che nuota e questi raggi sono realizzati diffondendo la luce all'interno dell'acqua quindi qualcosa di molto dispendioso dal punto di vista dei calcoli qui vedete una scena che ricorda alcune scene di città che abbiamo visto qualche video fa, qualche mese fa su una scheda Nvidia in cui con l'Unreal Engine 5 si realizzava in tempo reale una scena di questo genere e beh qui invece si fa la stessa cosa però le riflessioni qui dietro la mia testa sull'acqua tengono conto dei palazzi che ci sono intorno ecco non rende più di tanto vista così perché la risoluzione è molto bassa è stato realizzato nel 2000 questa scena qua immaginate nel 2000 una scena di questo genere in real time dovevate aspettare 20 anni per vederla e poi altre scene vedete qui questo è stato realizzato nel 2006 e qui ci sono delle automobili vedete le riflessioni molto bella come scena in cui si vede proprio la superficie delle automobili questo è del 2001 c'è anche un modello umano qui non solo oggetti particolari c'è questa lavagna e si vede qualcuno che attraverso la finestra sta guardando vedete l'ombra qui e via così qui c'è una scena di Pearl Harbor del 98 addirittura questa scena qui non ho idea di come abbia realizzato il fumo però vedete i modelli probabilmente non sono dettagliati più di tanto ma per essere il 2000 il 98 è qualcosa di eccezionale da realizzare col fuoco il fumo poi poi qui c'è un'altra scena non realistica con questo gatto questa moto volante e questa è del 2003 più recente e tra poco andremo a vedere invece un render un render un ray tracing moderno con questo D5 render che tra l'altro è pure questo gratuito allora andiamo a vedere come funzionava Powerade dunque dovrebbe essere questo il programma ecco vedete c'era un editor di questo tipo è un po' piccolo ma vediamo se riesco a ingrandire opzioni editor window colori andiamo un po' si era qui e andiamo font ah cambiamo il font esageriamo 36 facciamo 28 va che forse applica ecco adesso è un po' più grande riuscite a vedere meglio allora come funzionava Powerade era fatto in questo modo ci si metteva lì al computer e si descriveva la scena in questo modo qua vedete sembra un po' un linguaggio di programmazione poi su questo su questo disco su questo disco c'era anche poi un programma che in 3D permetteva di realizzare una scena però non era facilissimo da utilizzare invece scrivendo queste cose proprio a mano sul computer vedete qui c'è un oggetto che si chiama background e si specifica colore rosso in pratica si va a dire che lo sfondo sarà un colore rosso uniforme poi si specificava la posizione della camera fornendo la sua posizione e vedete che qui ci sono le coordinate della posizione della camera e qui sotto invece il punto verso cui guarda quindi era facile mettere la camera in una certa posizione e dire guarda lì poi c'erano altri parametri che si potevano realizzare e poi nella scena bisognava specificare gli oggetti che erano presenti ovviamente ci voleva una sorgente di luce di in questo caso colore bianco posizionata alle coordinate 2, 4, meno 3 proprio x, y, z come siamo abituati normalmente con i tre assi cartesiani quindi la sorgente di luce era necessaria la camera era necessaria e poi si aggiungevano oggetti questi oggetti potevano essere molto semplici come questa sfera o anche piuttosto complicati realizzati come avete visto nelle scene precedenti con modelli tridimensionali formati da tanti punti da tanti triangoli in questo caso la sfera ha un centro che si troverà nelle coordinate 0, 1, 2 ha un raggio 2 e poi ha appiccicata una un'immagine una texture che in questo caso è semplicemente un oggetto di colore giallo la superficie è semplicemente gialla dopodiché si premeva su run salviamo non sapevo che ci fosse la musichetta speriamo non mi diano il copyright ed ecco qui l'immagine che è stata prodotta in pochissimo tempo qui ho messo uno schermo 800x600 e qui vedete la sfera la sorgente di luce sarà in alto a destra e vedete che qui è stato illuminato e noi vediamo il giallo che viene diffuso e dato che se ci spostiamo verso sinistra in basso la luce colpisce in modo meno diretto la nostra sfera e quindi il raggio che attraversa parte dalla camera attraverso lo schermo e colpisce la sfera capisce che l'intensità luminosa che arriva dalla sorgente di luce deve essere meno intensa con particolari algoritmi per dare questi effetti che possono essere modificati mediante opportuni parametri se poi arriviamo qui in basso qui in basso ci deve essere ovviamente ci deve essere buio ora andiamo a vedere una scena un po' più complicata e questo programma è stato sviluppato fino a qualche decina d'anni fa quindi non è che abbia avuto molti molti aggiornamenti perché era già perfetto nel 93 94 quando lo usavo io allora qui c'è Befana poi scopriremo nei prossimi video cosa vuol dire Befana andiamo sulla scrivania andiamo a prendere non mi ricordo più come si chiama scusate Befana è qui non ci interessa la Befana per il momento e ci interessa invece Powerade Examples cioè questi qua questi esempi qua che si trovano che si trovano però in un'altra zona quindi tanto per far vedere una scena quanto ci impiega a renderizzarsi andiamo sul disco D andiamo sulle utility Powerade che non vedo allora ovviamente è qui qui scene oh ci siamo arrivati ovviamente queste cose le può fare anche Blender ci sono tanti programmi che fanno questo genere di calcoli però io conosco dal 93 questo qui e allora vi faccio vedere all'opera Powerade e poi andiamo a vedere D5 come funziona per esempio ci sono diverse scene qua avanzate proviamo questo Abyss 2001 questa è una scena creata nel 2001 ci sono alcuni include che inseriscono parti che sono abbastanza ripetitive e qui vedete la camera dove si trova fornisce anche l'angolo di apertura la proporzione il colore poi qui si parla di varie sorgenti di luce vedete quanto è lungo poi ci sono queste texture che realizzano vari tipi di effetti si può realizzare effetto marmo tante cose e andiamo a vedere tutta questa roba qui vedete quanto è lungo quanto bisogna scrivere vediamo che cosa realizza e vedete c'è sempre la musichetta e vedete che realizza questa scena sottomarina con tutte queste mine che vengono renderizzate una per una attraverso la luce che arriva dall'alto e che crea questo effetto particolare perché più la luce attraversa l'acqua più diventa blu quindi perde le componenti rosse gialle verdi attraversando l'acqua queste componenti vengono diffuse e o meglio quelle arrivano e viene diffusa tutta questa luce blu e quindi davvero ci ha messo pochissimo avete visto ma questa scena renderizzata nel 93 ci voleva una vita per ottenerla quindi davvero una scena del 2001 dicevamo molto particolare chissà quanto tempo ci ha messo l'autore qui ci sono dei biscotti questa è del aggiornato nel 2013 quindi molto più recente come come scena quindi sarà un po' più pesante però mi sembra che ci siano pochi oggetti ci sono vari tipi di biscotti ed ecco la musichetta c'è sempre c'è scritto in quelle in quelle finestre di dialogo c'è scritto che si può cambiare la musica e qui vedete le briciole i biscotti con le superfici qui c'è il il classico la classica tazza di tè con le riflessioni la rifrazione le ombre davvero una scena che a vederla così sembra niente ma era complicata è complicata da realizzare vediamone ancora uno che ci ha messo pochissimo ovviamente vediamone ancora uno e qualcosa che ci ispira vediamo un po' scacchi diffrazione proviamo questo diffrazione che cosa sarà e qui si vede proprio la potenza del ray tracing esatto ecco ovviamente adesso l'ho dovuta ingrandire avrei potuto ecco facciamo una cosa invece di fare 800x600 proviamo a fare qualcosa in almeno full hd full hd quindi 1920 per 1080 ho messo anche un po' di anti aliasing e eseguiamo ecco vedete ci ha messo un po' di più e adesso la sto pure ingrandendo un po' perché il mio schermo è 2k allora cosa notiamo in questa scena qui si vede la potenza del ray tracing una cosa così con il rendering 3d normale non si può fare si può evidentemente fare con opportuni accorgimenti sulle schede grafiche moderne dove viene attivato il ray tracing però qui vedete questi colori questo azzurrino questo questo violetto poi tutti questi effetti di luce ecco qui tutti i raggi che escono dalla camera e che vanno a cercare questi oggetti quando incontrano questi oggetti trasparenti che cosa fanno i raggi subiscono riflessioni rifrazioni e le sorgenti di luce attraverso appunto questi oggetti danno tutti questi effetti di riflessione rifrazione particolari attraverso questo toro qui questo questa ciambella per dirla in modo più semplice vediamo gli oggetti che ci sono intorno e se guardassimo bene queste sfere vediamo gli oggetti che si riflettono in parte attraverso queste sfere poi per poter fare opportunamente questi calcoli è logico che a un certo punto ci dobbiamo fermare perché qui di riflessioni attraverso queste sfere contro una e contro l'altra ce ne sarebbero tantissime eppure con il ray tracing avete visto in pochissimo tempo siamo riusciti a riprodurre questa scena e all'epoca si vedevano proprio immagini con delle sfere che sono oggetti abbastanza particolari ma anche semplici da utilizzare nel ray tracing ecco si ottenevano scene di questo genere con rifrazione diffrazione della luce effetti di questo genere in cui si vede la luce bianca che arriva dalla sorgente di luce e attraverso questi questi oggetti di vetro avendo i vari colori della luce le varie frequenze diversa e diverso indice di rifrazione questa luce bianca viene separata nelle sue varie componenti e qui vedete praticamente l'arcobaleno non proprio come si vede in realtà però rende l'idea e quindi davvero interessante il ray tracing già fatto negli anni 90 con tanta fatica era qualcosa che dava molta soddisfazione perché si ottenevano questi effetti particolari ora dato che sono già 40 minuti che chiacchiero la parte con D5 la faremo un'altra volta D5 render esistono tanti programmi di rendering anche blender al suo interno ne ha uno o di più non lo conosco quindi non ne parlo ma so che c'è e cos'è questo D5 render vedete real time rendering praticamente per visualizzare queste scene si può fare in real time sfruttando la potenza delle schede grafiche però poi c'è anche una fase in cui il rendering viene eseguito non in real time ma in batch perché grazie a questo D5 render si possono creare con write tracing delle scene animate e questa è la cosa bella che si può fare adesso con la potenza di calcolo che abbiamo a disposizione quindi prossimamente andremo a vedere D5 render e guardate che cosa si può fare queste sono scene animate con la camera che si sposta gli oggetti che si muovono e modelli che vedete si muovono e che non viene realizzato in real time come vedete adesso questo è un filmato che stiamo vedendo perché ci vuole tanto tempo per renderizzare scene come questa che sfruttano proprio il write tracing quindi non è una scena che potreste vedere in un videogioco con tutte queste riflessioni anche se ci stiamo arrivando perché si va a spingere al massimo la tecnica write tracing quindi scene estremamente realistiche e uno dice ma io in un videogioco le ho viste sì in un videogioco c'è qualcosa di simile però se vogliamo fare un filmato come può essere un film come avatar avatar 2 in cui queste scene si vedono ecco avatar 2 non è stato fatto in real time è stato renderizzato grazie a programmi tipo questi e quindi ci vuole molto tempo per realizzare queste scene però l'effetto è davvero eccezionale tutti i negozi che state vedendo all'interno ecco sono realizzati in un modo particolare con il real time parallax roba roba di questo genere non real time parallax ma con effetti di parallasse degli interni e vedete questi effetti di luce sull'asfalto davvero qualcosa di molto particolare che vedremo però a questo punto in un altro video e quindi abbiamo fatto un po' di revival come al solito il ray tracing come si faceva negli anni 90 con per esempio power ray e sulle cpu i486 dell'epoca e ci volevano parecchie ore per vedere quegli oggetti che invece adesso in pochi in pochi secondi avete visto abbiamo realizzato e quindi spero che questo argomento vi interessi qui sotto nei commenti scrivete qualcosa domande commenti suggerite altri programmi di ray tracing che voi avete usato magari anche quelli che usa blender potremmo andarli a vedere e scopriremo cosa si può fare in futuro con questo di 5 render a me non resta che ringraziarvi per l'attenzione e ci si rivede in un prossimo video in una prossima diretta ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti